È un piacere di suonare per voi questa sera. Per me è tutto scuro, ma sento il volo di motivazione. Restamente ho fatto molti viaggi, prima in Brasile, che è un paese dove ci sono molti fisamonicisti, molto famosi, con una bella musica che viene dalla tradizione molto forte. Dopo sono andato al Giappone e due giorni fa sono arrivato qui, pieno di immagini nella testa. E se volete posso suonare non un pezzo cinese o giapponese, ma un po' di basiliano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La storia di questa fisamonicche è un regalo della mia noda. mia nonna si chiamava Augusta e ho composto una balsa dedicata a Augusta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.